Il vice segretario del Partito Democratico, Orlando, stamattina in un'intervista dice la prima riforma che faremo sconfitto il virus qual è? E uno pensa, non so, riforme economiche, più soldi alla sanità, più soldi ai medici, aiuti alle imprese, aiuti alle famiglie, un fondo per i disabili che stanno soffrendo più di tutti e più di tanti, in questo momento no, centralizzare la sanità nelle mani dello Stato. Oibo, ma io dico, facciamo l'esempio di Regione Lombardia che è tristemente criticata da qualche politico di sinistra. I numeri dicono che Regione Lombardia ha aperto in queste settimane, grazie ai propri medici, grazie alla propria organizzazione, grazie alla propria struttura e alla propria efficienza, mille letti di terapia intensiva in più, facendo da solo. Anche perché se si dovessero aspettare in tutta Italia, negli ospedali di tutta Italia, nelle case di riposo di tutta Italia, le mascherine, i ventilatori, l'ossigeno, i camici, le tute, gli occhiali, dal Governo centrale, campacavallo. L'esempio di Regione Lombardia, e do due numeri precisi, i respiratori, ventilatori polmonari, fondamentali per non morire, per respirare attaccati alle macchine, arrivati dalla Protezione Civile Nazionale e dallo Stato centrale, sono stati 236. Quelli cercati e trovati in proprio da Regione Lombardia, il triplo, 740. Per le mascherine alcuni milioni arrivate dal Governo centrale e alcune decine di milioni trovate in proprio da Regione Lombardia.